La grotta scritta Sopra all'olmetta, e da parte apponente di un capigurzo, c'è usita il segnalato di la grotta scritta. I paesani lo conoscono di poi sempre, ma non è stato scoperto dai scientifici che è dall'anno 1955. Camminando, si vede i vestiti che ci indettano il passato agricolo di questo luogo, da preistoria ad oggi, e anche o lontano i pasciali piadini di Balagna o l'anziana minera di Tiglio di Canari. Il Tiglio è stato d'importanza a preistoria sino al XX secolo, da impidici taraglie di Schiappanantauvogo. La grotta scritta detta Una è un tavone alto e largo di due metri e trenta. I soparretti so' fasciati di pitture preistoriche che si soprapponini. Ci so' figuri idiometriche, in particolare un tridente, e sto segno fatto a diamante che può essere un simbolo femminile, ma c'è anche i suddietti antropomorfi, cui bracitesi o galati, secondo una tematica che noi troviamo dall'Italia a Spagna, passando pa' a Sardegna. Certi personaggi pare ne dessaccavato, ma oggi che oggi i ricerchi ci insegnani che st'animale non era presente in Corsica Aleppica. L'archeologo Michel Claudevès ha fatto un studio che ha permesso di sfarenziare cinque tinti, da un rosso bruno a un rosso chiaro, corrispondendo a cinque tempi due do fuoco patologo, da un iolitico finale a un bronzo anziano. La prima fracquintazione corrispondaria all'indio di Apparetta, cu' o tridente e altri segni infilarata. A seconda sarei acquida di un mezzo, cu' questi due uomini, uno bracitese e l'altro, un uomo animale che pare un mago in relazione cu' una credenza liata a Gaccia, o a una bestia guruta, forse un toro. A terza fracquintazione, pare di corrisponde, a parte di manca l'indio, cu' sto muarito, bracci calati, postusegno poco capiscitoio. A guarda, a dritta, è rappresentata da sti strani disegni che pariano a certi due gavaliere di apriistoria. A quinta occupazione, sarei acquida di a parte manca l'insù, cu' sto segno triangolare, forze simbolo di viminità e dunque di riproduzione. Per disgrazia, i pittori soparsparisce sotto l'azione degli alimenti che cadionano a nascita e o sviluppo di muffa nanti barretti. Misuri da pruttegiali so' stati presi da poco. Giusto accanto, c'è la grotta scritta detta 2. È una grotta reda acquista, fonda a 3 metri, larga 4,50 metri e alta 1,40 metri. L'uomo ha necampato traballato qui, nittistimo in edia un erro lasciato in antausuladio da uvogo e i mureti sfondati che saravano i lati di la grotta. Non ci troviamo mica pittori, ma segni di umetrighi zucati in da petra che non sono stati datati alla fine. I più vecchi sono di apriistoria, ma di sopra c'è anche graffiti di uvintesimo secolo. Petri scritti così nitruem di no Impinu, Barettali, Luri, San Martino di Lotta e Santa Maria di Lotta ed è sicura che certi so' ancora scopra. Grazie a tutti.